Il progetto di legge del Movimento 5 Stelle Lombardia propone di modificare la governance delle ALER attraverso quattro punti chiave, semplificazione, razionalizzazione, risparmio, azzeramento dei poltronifici. La legge regionale numero 16 del 2016 ha eliminato una ALER per provincia accorpandoli in 5. Il Movimento 5 Stelle propone di semplificare ulteriormente il sistema, istituendo una sola ALER Lombarda con tre direzioni, Nord, Milano e Sud. Blocchiamo l'indegno poltronificio tuttora vigente con direttori e presidenti scelti dai partiti solo per fedeltà politica e non per competenze e capacità. Le loro condotte, a spese dei contribuenti, spesso non sono state esemplari. Esisterà dunque un solo presidente e un solo direttore generale, al posto dei dieci attuali. Di conseguenza, in questo modo vengono razionalizzati i processi produttivi dell'azienda, generando minori costi di gestione per amministrazione, servizi, forniture e lavori. Sarà possibile fare, ad esempio, appalti unici a livello regionale e un'unica cabina di regia. In cinque anni sarebbe assicurato un risparmio di oltre 4 milioni di euro da utilizzare per affrontare l'emergenza abitativa e per migliorare la qualità di vita degli inquilini. Sono infatti migliaia le famiglie che attendono un alloggio pubblico, mentre gli stabili presentano quotidianamente problemi di manutenzione. Per il Movimento 5 Stelle è ora di dire basta all'immobilismo di Regione Lombardia. È il momento di azzerare il settore dell'edilizia residenziale pubblica e di mettere finalmente in testa le priorità e il diritto alla casa.